Stasera assisteremo a un po' di integrazione musicale, innanzitutto benvenuti qui alla BAM, inizierà a suonare lei che viene direttamente da Istanbul, dalla Turchia, preannuncio il fatto che in realtà sentirete una musica tra virgolette relativamente nuova, visto che c'è stata un'influenza intorno al 1200 di questa musica, a voi Sinem Kalkan. Un'influenza Un'influenza Grazie a tutti 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 Grazie a tutti